Il 2022 è stato un anno difficilissimo per i mercati finanziari, l'S&P ha perso più del 20%, il Nasdaq più del 35%. Lo ricorderemo tutti come l'anno peggiore dopo il 2007 e il 2008 e forse nel 2023 ancora il peggio deve arrivare per qualcuno. Ma noi abbiamo fatto meglio dell'S&P, ma noi abbiamo fatto il nostro record nel 2023 contro il mercato azionario che è crollato nel 2022 e è rimbalzato per alcuni o è ripartito nel 2023. Lo abbiamo fatto in due modi diversi, uno attraverso il trading speculativo grazie al quale si può guadagnare dai crolli del mercato o dalle discese come anche dalle salite. e attraverso un portafoglio di investing dove si compra e si tiene per mesi, per anni, quelle che sono le azioni che si reputano migliori, quelle che sono le azioni che si reputano migliori in una certa fase di macroeconomia e rispetto ai suoi loro dati fondamentali. Ebbene, in questo webinar ti presenteremo chi sono i protagonisti di questo servizio di trading per operare sulle azioni, tra cui il Max Mereghetti e il Big Money che opera con oltre 100 milioni di dollari per i clienti di una banca di investimento per cui lui fa gestione e ti presenteremo un po' quali sono i cenni principali della nostra operatività in investing e speculativa. Ma, cosa che non ti mostra mai nessuno, ti mostreremo i numeri reali ottenuti con i conti di trading, ti mostreremo la nostra sfida con l'S&P e ti mostreremo che cosa siamo in grado di fare davvero. Non di promettere!